Chiarire le relazioni complesse tra la sfera dell'economia e quella della politica. In questi anni abbiamo parlato moltissimo di globalizzazione e abbiamo cominciato a parlare anche di sovranità, di nazionalismo. Il problema è capire come i flussi economici incrociano le preferenze politiche, le reazioni degli elettori, determinano i comportamenti e retroagiscono poi sull'economia. Il nazionalismo, il populismo, crisi della rappresentanza quindi hanno un influsso negativo sul ciclo economico? Non so se è negativo, certamente influiscono, questo lo diremo in questi giorni, vedremo come le relazioni sono da tutte e due le parti. L'economia produce effetti economici, nella redistribuzione del reddito, nei comportamenti multinazionali e dell'economia locale, discuteremo molto anche di questo. Capiremo come la nostra vita è cambiata sia dalla sfera politica che da quella economica. La crescita dei nazionalismi e della crisi di rappresentanza è anche legata a una scarsa mobilità sociale dei cittadini più bassi della popolazione? Guardi, certamente l'Ocse ha testimoniato, in un rapporto uscito pochi mesi fa, che dal 1990 in tutti i paesi sviluppati si è ridotta la mobilità sociale, che vuol dire che una persona che nasce in una famiglia svantaggiata, anche se molto bravo, fa enorme fatica ad acquisire posizioni sociali. Questo certamente crea molto scontento, è uno dei fattori che certamente ha determinato anche il nascimento di movimenti di protesta, movimenti che rivendicano un ruolo diverso anche per... Grazie. Grazie.